Karen, l'amore della zia sei tu, l'amore di zia sei tu, Andrea, vieni la zia, Andrea, Karen, Andrea non c'è più niente, Andrina, l'amore di zia sei tu, è bella Andrea, è bella, allora di toccare, si fa toccare su tutto il corpo, non mi sento oggi di provare a sollevarla perché non voglio che si spaventi troppo, perché vedi se mi muovo un po' più forte e scappa, certo c'è un po' di lavoro da fare qui, però è tanto carina, sì, lei sarà sui 6 kg, poi tutto pelo, Andrea, lo sai che c'è una mamma interessata a te, lo sai, non avere paura, è una cosa bella che ti sta dicendo zia, è una cosa bellissima quella che ti sta dicendo zia, si protegge sotto care.